benvenuti cari appassionati al massimo delle loro possibilità anche voi sarete eccitatissimi chissà cosa si saranno detti negli spogliatori quali incoraggiamenti si saranno scambiati quali paure avranno condiviso il ricordo della scorsa edizione e del trofeo che si alza è ancora vivido questo era un palcoscenico veramente impressionante prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile grazie vecchio torneo nuova edizione stessa altalena di emozioni allacciate bene le cinture mancano solo pochi istanti al calcio d'inizio la partita inaugurale del girone offre sempre diversi spunti Fabio è anche la prima occasione per mandare un messaggio alle altre squadre del gruppo una parte importante la giocherà il nervosismo iniziale ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte incentivo per entrambe le formazioni l'arbitro ha già dato il via cronometro palla di nuovo verso il centro intervento rischioso è corner e sulla palla i compagni aspettano il traversone zapata primo tentativo dell'incontro da quella posizione doveva assolutamente andare a segno ma lui non ci è riuscito esempio perfetto di marcatura gli hanno impedito di andarsene via palla al piede occhio può andare marcelo gioca una palla lunga prova benzema hasard occhio la toglie dalla porta ahiai stanno correndo rischi davvero inutili traversone basso il real madrid sta tenendo alte entrambi i terzini vogliono aumentare la spinta sulle fasce limitando l'avanzata degli esterni avversari e per farlo li pressano alti in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere esatto bravo cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari isco pallone lungo in verticale lo hanno marcato molto bene non si è potuto liberare la gioca sulla destra se ne va la allontana con forza ecco un'occasione di contropiede provo a giocarla in profondità quest'errore potrebbe essergli fatale ha tentato l'azione personale conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi magari ci riproverà ancora credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara duvan sapata prova a spingere sulla corsia di sinistra e passa c'è la palla lunga in avanti Sergio Ramos Valverde Marsello Ilicic allarga il gioco a destra bello anticipo pericolo sventato Sergio Ramos Valverde scodella in avanti Raffaele Toloi legge bene l'azione blocca il pallone Sergio Ramos Sergio Ramos Casemiro Isco Benzema passaggio sulla destra record cross riesce ad intercettare Marsello Marsello Isco e l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve non una brutta partita in ogni caso 0-0 alla fine della prima frazione speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo beh Fabio nel secondo tempo le cose possono cambiare speriamo che la gara si accenda nuove energie dalla panchina vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere Tony Cross avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist Tony Cross Marsello Tony Cross Hazard decide di sfruttare la fascia prova a metterci il piede si libera la grande Froyler di forza ottimo intervento ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario mostrano un buon controllo del gioco Hazard infilza il portiere è arrivato il gol del vantaggio una potenza incredibile un tiro fortissimo era un pallone davvero potente non ha deviato di un millimetro la sua traiettoria prima di insaccarsi si ricomincia dall'uno a zero fanno un passo avanti verso la vittoria ma devono rimanere molto concentrati l'appoggio sulla fascia l'Atalanta ha fatto bene in questa occasione deve continuare così non hanno altra scelta devono buttarsi in avanti assolutamente l'Atalanta non riesce a interrompere il possesso palla degli avversari sta subendo troppo fa sportellate con il suo marcatore ecco il filtrante per Benzema Pessina molto solido il suo intervento difensivo non si è fatto superare grande slalom prova ad andare via con eleganza cross di muri tocca con la testa ottima l'azione conclusione però non all'altezza il Real Madrid deve dimostrare maggiore attenzione da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose tutte e due le squadre hanno optato per il cambio Tony Cross Sergio Ramos Isco cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie Pessina Muriel spazza il più lontano possibile il portiere ci mette del suo per evitare il gol è una grande occasione fallita questa potevano pareggiare beh tutti possono sbagliare qui secondo me si è fatto sopraffare dalla tensione cambio di indicatore sembra che il mister voglia fare un altro cambio sostituzione comprensibile sembrava molto stanco meglio far entrare un giocatore fresco Pessina occasione sensazionale Courtois devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio e anche i difensori per accompagnare la manovra Odrio Sola alla peggio nello scontro di forza Odrio Sola Isco Josipilicic Hazard oggi è andato a segno Benzema grande risposta di Gollini salva la sua porta qui bisogna lodare l'estremo difensore non si è fatto superare Pasalic Derun Ilicic qui sensazionale Courtois beffa l'estremo difensore hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione si è fatto trovare pronto ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone numero 9 situazioni di partita si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro e cominciano dunque con un pareggio certo non è una vittoria ma quest'oggi era importante soprattutto non perdere eccoci qua Luca allora qual è la tua opinione sulla gara? beh Fabio sicuramente grazie a tutti